Valdagno ecocentro accesso libero ai cittadini con orario continuato novità importanti per i cittadini di Valdagno che dal primo gennaio 2022 potranno avere libero accesso all'ecocentro comunale di via gasdotto la nuova riformulazione degli orari di apertura arriva per dare un servizio migliore agli utenti e deriva dall'analisi fatta su tutti gli accessi effettuati negli ultimi mesi con l'avvento della pandemia sono cambiate le abitudini e responsabili del servizio di raccolta rifiuti hanno colto le nuove esigenze dei propri cittadini oltre ai dati di entrata e uscita sono giunte in comune richieste verbali affinché si potesse modificare giorni e tempo di apertura i residenti di natura privata quindi con utenze domestiche potranno conferire i rifiuti con orario continuato rimane l'obbligo di prenotazione per le ditte queste potranno conferire i rifiuti nelle giornate di lunedì e giovedì nelle stesse giornate verrà comunque assicurato l'accesso anche a utenze domestiche con priorità a quelle non domestiche prenotate cambiano gli orari del servizio che sarà aperto da lunedì al giovedì e sabato si conferma la chiusura del venerdì per consentire gli interventi di pulizia e svuotamento dei container in vista dei maggiori afflussi che solitamente si registrano il sabato viene infine abbandonato il doppio orario inverno estate a favore di un unico orario continuativo dalle 8 alle 15 e 45 iniziamo a capire Grazie a tutti.